Sììììì, giomero! Chi è di allora nella tribù degli indiani, quella roba nei brutti? Allora, ti dico solo una cosa. Pensa che gli indiani storicamente poi sono stati segregati, no? Ti ricordi? Invece con zero limits sei... Limitato, sì. Sei libero. Ti dico solo quello. Da domani zero limits. Bravissima. ringraziamo Vodafone in coro, ringraziamo, facciamo un applauso grazie a Vodafone data zero, queste date di musica gratuita solo per voi, solo per voi questa sera da Rolling Stone di Milano due settimane fa siamo stati a Torino e quindi l'atmosfera mi sembra carica io sto per introdurre subito un primo gruppo allora faccio l'introduzione per la figa che spiega un po' tutto del gruppo c'è chi deve andare a fare allora facciamo compromesso, compromesso voi iniziate a fare poi pian pianino io alzo la mano e voi fino a che poi non esplodiamo ok, facciamo questo e poi ci sono le telecamere, così viene bene allora il primo gruppo è stato definito in tutti i modi possibili risuscitando pareri contraposti e aprendo dibattiti informati dei forum musicali, dei programmi in genere, dell'ambiente musicale mischiano emopalco e dell'entroblema con l'elettronica ammocca ma via c'è chi è legato l'italia emopalco che si effettiva la chiamicella e suonava la sopra delle loro esperienze di due agli di gruppo idale sul palco guardate al senso di Milano esclusiva solo per voi idale idale ecco ti listo ci sono grazie